Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Oltre la Shoah, venerdì 27 gennaio alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale di Taranto. Ma questo è solo un inizio di una serie di eventi che l'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, retto dall'Avvocato Gino Lupo, ha voluto porre in essere per sensibilizzare l'attenzione e la formazione anche dei più giovani riguardo alla gravissima e inaccettabile, incivile realtà dei genocidi. I genocidi continuano. Partiamo dalla Shoah. Non ho voluto fermarmi soltanto alla giornata internazionale della memoria che si cade appunto il 27 gennaio, ma ho voluto portare i nostri giovani studenti attraverso un percorso che passa appunto e parte dal 27 gennaio, giornata della memoria della Shoah, ma passa attraverso altre persecuzioni, fino alle ultime persecuzioni. Infatti queste quattro giornate vengono intitolate proprio Oltre la Shoah. Non fermarci soltanto al 27 gennaio ma far approfondire ai nostri giovani la consapevolezza della memoria, dell'importanza della memoria tra passato e presente. Grazie a tutti.